Sono le sette, noi stiamo per fare colazione in treno, dico noi perché effettivamente siamo in due Vediamo cosa c'è in questa box, tu l'hai già aperta? La sorella in più istante Box, Frencia Rossa per la colazione, prima classe Frencia Argento Ah no, è preso scritto Frencia Rossa Siamo su Frencia Argento, direzione Genova per andare a se la prendono Dunque, vediamo cosa ci regala questa box Gioie? Mmm, era molto meglio quella dell'altra volta Ebbè perché l'altra volta era Frencia Rossa proprio il treno per Milano Ma vabbè, ha un'anzitutto salviettina umidificata E poi abbiamo la tristezza Però menta a cavallo donato non si fa Ma io lo mangio da tutte e due È ovvio Trostatina con mitraicofra prima che io mi senta male Se è un frutto, se sono allergica E il biscottino E il biscottino al cioccolato che abbiamo fatto venire la poliferica Dopodiché acqua, molto apprezzata, performata E poi ci siamo fatte fare un test caldo Questo qui di Twinings Vabbè Dai Non è male No Poteva andare anche peggio Tipo non esserci Perché eravamo su una classe Che non da colazione Quindi Alice si umile Che dici? Si umile Ah, siamo a questo livello già che sei sorda? No, sì, non ci ho sentito Perché stavo Stavo Perché hai due colori diversi? Ma perché lì si è già Ah, perché l'hai messo da un po' Eh, sì, l'ho messo un pochino Ma è già infuso Le shin Ma questa settimana di scleroste a remo Ci sentito Per il visão Grazie a tutti.